Non accettava in alcun modo la fine della relazione con l'ex al punto di arrivare a rubarle il cellulare per spiare i suoi movimenti e le chat. Un 36enne è così finito ai domiciliari per furto e stalking. È successo a vice omaggio nel comune di Civitella in Val di Chiana dove i carabinieri di Badia Alpino sono intervenuti a seguito della richiesta di una donna di 45 anni che denunciava una con il suo ex fidanzato. I militari hanno così accertato che l'uomo, un 36enne bielorusso, aveva rubato il cellulare della donna allo scopo di installare un programma per localizzarla e estrapolare contatti e chat. I carabinieri poi ricostruendo i rapporti tra i due hanno accertato che l'uomo da tempo la perseguitava non avendo accettato la separazione. Il 36enne è stato così rintracciato e nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno ritrovato il telefono rubato alla ex. È così scattato immediatamente l'arresto per il 36enne per furto aggravato e stalking. L'uomo è stato processato questa mattina per direttissima, l'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.